Ciao Roby. Grazie a tutti. Abbiamo bisogno di sentire il vostro contatto, quindi un grande saluto a tutta la famiglia Metanopoli e allora prima di iniziare non posso far altro che dare la sigla. Bene, eccoci qui dopo la nostra splendida sigla, allora come da sempre nella mia vita in Metanopoli non posso far altro che salutare il mio compagno di avventura, il nostro Simone Pinali! Ciao Luigi, ciao a tutti. Ci sono, ci sono, ci sono i miei fattori fluttuanti. Io sto molto bene, non vedevo l'ora di aspettare questo sabato pomeriggio, anche perché oggi abbiamo una puntata pazzesca con degli ospiti incredibili, puoi darmi due indicazioni? Sono tre fratelli, tutti che sono cresciuti a pane palanuoto, quindi assolutamente nel nostro ambiente e sarà molto divertente. Bene, bene. Allora, visto che abbiamo pochissimo tempo e visto che ci stanno in seguenza, tra l'altro noi siamo in diretta Facebook, ci siamo trasferiti da Instagram a Facebook, quindi se avete voglia di commentare e di scrivere, noi cercheremo insomma poi di rispondere il prima possibile. Per quanto riguarda il primo ospite della serata, figura di spicco della Metanopoli, prima squadra con 32 gol in classifica, secondo soltanto dietro Abrambilla e Vucsanovic, signori e signori è qui con noi tra qualche istante Alessandro Di Somma! Vediamo se arriva il collegamento, Simo. Ciao a tutti! Eccolo! Ciao Alessandro! Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao! Ciao Ale, allora innanzitutto benvenuti alla grande! Sì, vedo che sei anche con la maglietta ufficiale della Mietta. Sì, guarda, guarda, faccio vedere, la metto in primo piano. In realtà, cioè, volevi far vedere i tuoi, insomma, pettorali fondamentalmente. Sì, sì, pettoralissimi, pettoralissimi, soprattutto qua da casa, proprio poi sfruttati al massimo, no? Certo, senti, tu sei a casa con la tua compagna e con il tuo figlio, giusto? Sì, con la mia bambina e con mia moglie, sì, siamo qui, siamo in un appartamento che è sempre, ogni giorno che passa, più piccolo. Immagino! Sono chiuso in camera da letto perché, sai, con una bambina piccola ci rischiamamo qualche invasione di campo, tipo Wembley, e quindi allora sono chiuso il barricato qui. Senti, ti faccio la stessa domanda che settimana scorsa abbiamo fatto a Nicolo Gitto. È più difficile preparare una partita, allenarsi la settimana o passare 24 su 24 con tua figlia? La seconda, senza dubbio proprio, senza alcun dubbio, senza alcun dubbio. È un lavoro faticosissimo e sì, sicuramente vorrei essere in piscina ad allenarmi o a giocare a 2.000 chilometri da qua ogni tanto. Sì. Ok. Allora... Ale, un po' di arrabbiatura ce l'hai col fatto che stavi per raggiungere Alessandro Bramvilla in film, la venta canoniieri? Ma guarda, veramente guarda che la gente pensa alla promozione che è veramente il nostro obiettivo, ma io non lo dico, cioè adesso lo devo dichiarare a tutti, il mio unico obiettivo di quest'anno era superare Bramvilla e quindi non farlo dormire la notte e invece questo mi stanno rovinando un sogno. Ascolta, Simone ti lancio la prossima battuta, è uscito un articolo oggi sulla Metanopoli e parla di uno scenario possibile per l'anno prossimo. Simo, vuoi avvicinarla questa notizia in diretta? Ma come insomma saprai anche tu, adesso si sta un po' parlando, in federazione le possibilità può essere una 1 allargata. Tu cosa ne pensi di questo scenario della possibilità di tornare a giocare con noi nella massima serie? Ovviamente se dovesse dare l'ok a questa possibilità. Ma innanzitutto era il nostro grande obiettivo e sono sicuro che se avessimo continuato a giocare, non si sa ancora se è tutto finito, siamo tutti abbastanza sospesi, ma sarà difficile tornare in acqua a questo punto. Comunque diciamo che l'obiettivo massimo era quello perché la Metanopoli merita la 1, indipendentemente da tutto quello che poi può accadere in futuro. Quindi speriamo che qualora terminasse qui questa stagione, tengano conto del cammino che lascia spazio a pochi dubbi, che abbiamo fatto fino al giorno prima di fermarci. Certo, assolutamente. Senti, tra l'altro il campionato si è interrotto proprio in un momento soprattutto importante, perché il 29 di febbraio avresti dovuto giocare con la maglia, anzi con la maglia no, con la calotta, la metanopoli, contro in Bogliasco, è il luogo da dove tu sei nato e dove tutta la tua famiglia comunque ruota. La domanda che ti volevamo fare io e Simone è, ma a Bogliasco, la tua famiglia, i tuoi genitori e i tuoi fratelli, da che parte della tribuna si sarebbero seduti? Sì, ma io penso al centro del campo. No, 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 a parte gli scherzi, sarebbe stata un'emozione fortissima. Mi è capitato una sola volta nella mia vita di tornare da avversario a Bogliasco quando ho giocato a Trieste. Anderini a Trieste. Sì, e quindi una volta su 15 anni di carriera non è tantissimo. Quindi, diciamo, sarebbe stata una partita molto difficile sotto tutti i punti di vista, però, credetemi, sarei stato contentissimo di giocarla e di vivere con le emozioni piuttosto che vedere tutto sospeso così perché è molto, molto peggio. Però ti dico, a casa siamo, a casa tifano per me. Dai, mettiamola così. Quindi tifano per me. Senti, Ale, sappiamo che, insomma, sei, oltre ad essere un grandissimo giocatore di pallanuoto, ti diletti anche a casa a fare dei cocktail. E' vera questa notizia che c'è giunta? Eh, guarda, diciamo che sì, io sono un grande barman in espresso. Adesso diciamo che il pubblico è assolutamente ridotto perché ho mia moglie e la bambina, non posso farlo perché sennò mi denunciano. Vabbè, gli fai uno shaker di latte e plasma. Esatto. Esatto. Ti dai gli alcolici. No, ogni tanto quando non dorme penso anche agli alcolici, onesterno. Però... Anche perché metti i bambini vicino alla cucina con la ventola dell'aspiratore che fa il dormiere. Che ne ha tua figlia? Scusa. Ah, quasi due anni. A luglio fa due anni. Ah, ok. A luglio fa due anni, sì. Quindi sei nel pieno del delirio, praticamente. Sì, di come che li chiamano i terribili due, no? Certo. Questa è la fase. No, è brava. Eh, terrible too. Allora, senti, Ale, visto che te l'abbiamo buttata lì, ma perché non ci prepari in diretta un cocktail mentre presentiamo il prossimo ospite e visto che sei qua... Simo, lo vuoi lanciare tu o lo lancio io? Vai tu, vai tu. Allora, direttamente da Londra. Signore e signore, abbiamo fatto di tutto per averlo. Abbiamo in collegamento un altro giocatore di pallanuoto che Alessandro conosce benissimo, suo fratello, Roman Bisama! Adesso vediamo perché magari il collegamento è un po' più... Salva. Eccolo, eccolo. Eccolo. Hai detto giocatore o ex giocatore? Scusate, non è vero. Ho detto giocatore, ma... Rimane sempre giocatore. Hai messo la lotta, diciamo, a presa al muro, ma ti stai occupando di kitesurf, se non sbaglio, vero? Di kitesurf. No, innanzitutto grazie mille di avermi, è un piacere, è un piacere essere qua. Ciao, Roman. Eh, no, sì, vabbè, sono ancora, diciamo, pur avendo lasciato l'attività professionistica o sei in professionistica di pallanuoto dieci anni fa ormai, sono sempre nello sport, quindi, insomma, diciamo che non mi sono allontanato tanto da questo mondo. Sei tu che hai portato tutti i tuoi fratelli a giocare a pallanuoto? Sì, vabbè, io e Ale abbiamo iniziato praticamente insieme, direi. Forse qualche mese di differenza. E invece Edo, guarda, mi ricordo praticamente quando lui era addirittura, non riusciva a salire i gradoni della piscina di Bogliasco, da quanto era basso, ed era già lì a vedere le parite mie di Ale. Quindi, ti dico, era, non so neanche quanti anni fa, ma più di 20? Certo, più di 20, scusami, aveva 22, aveva due anni, aveva due anni. Sì, 20, sì, 20, dai, quasi una ventina di anni, dai. Senti, ma vostro, vostra mamma e vostro papà lavoravano a pallanuoto? No, direi che hanno anche difficoltà a nuotare, no? Ma, ecco, quando vi faceva il pagno, vi metteva tutti dentro in vasso, è lì che è nata praticamente la voglia di fare i figli, notisti. Ma, e cosa dice Ale? Non lo so, non lo so. Non lo so. Sicuramente forse il fatto che non giocassero, amicizie in comune, amicizie in famiglia, che ci hanno portato a giocare a pallanuoto, forse da lì che è nato tutto, diciamo che nelle vasche poi ci siamo, ci siamo sbocciati negli anni a venire. No, erano gli anni, guarda, erano quegli anni dell'Italia, della grandissima Italia, quindi mi ricordo che papà era appassionato dello sport, era un grande tifoso di giocatori e ferretti, eccetera, quindi probabilmente la passione è arrivata... che vi ha portato. Sì, poi avevamo amici, amici che giocavano da una vita, come anche c'era Gianni Fossati ai tempi che giocava, che quindi ce l'hanno portato in questo mondo qua, quindi diciamo che c'erano amicizie. Poi qua in Liguria, in Liguria bisogna dire assolutamente che... è un luogo un po' strano dove fare la nuota a Liguria, infatti... No, 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 sì, esatto, ci sono ogni metro una squadra, quindi la tempo ci siamo mutati in quello. È l'unica regione in Italia dove è strano giocare a calcio. Esatto, esatto, esatto. Non so se siamo bene o no, però... È stato stranissimo perché io praticamente sono cresciuto, ho passato più di vent'anni della mia vita qua, dove praticamente in Liguria tutti conoscono la pala nuoto. Certo. E poi quando mi sono trasferito all'estero, dieci anni fa praticamente sono passati in un mondo in cui invece la gente quando gli parli di pala nuoto dicono cosa? Palla cosa? Incredibile. Vero. Senti, ma io ho un po' internato su di te, che sono incredibilmente sulla tua pagina di Wikipedia, Roman. E ho visto che stavi preparando il Red Bull Megalook. È reale questa notizia? Allora, guarda, io non so se questi video ci stanno seguendo, ma se ci stanno seguendo gli posso dare del pirla in diretta. Mi hanno fatto sto scherzo qualche settimana fa e io continuo a minacciarli dicendo che devono assolutamente tirare giù queste... Ma no, dai, anzi. Volevo anche dirti che io so perfettamente che sei l'ultimo detentore della mia ricetta del pollo a la Roni, tra l'altro. È vero, è vero. Sì, è vero. Alessandro, vuoi parlarti del pollo a la Roni? L'hai mai ascoltato? Grazie a Dio no, ma è un segreto, un segreto anche per lui, penso. L'ultima passata per Roni, per Romana, mi è ridotto il mio figlio. So che sei anche un appassionato di chitarra, magari sono gli influenti londinesi che ti hanno fatto imbracciare in sopra lo strumento. Guarda, mi fa piacere che dei tre, perché ognuno deve avere un ruolo in questo Facebook Live, quindi io sono contento di avere il ruolo dello zimbello, ma ci sta, va bene. Io non lo so dove venga questa roba di chitarra, guarda. Vabbè, a dire il vero, l'altra sera c'era Ale qui a cena, che non si potrebbe neanche dire, visto che siamo in cauma... Beh, infatti, certo. Abitiamo a 200 metri di distanza, 200 metri. Ti ricordo che Romana è in collegamento all'Ontra, tra l'altro. Era una cena... Ah, passata, passata. E ho trovato in un angolo della cazza la chitarra che era di Ale, e quindi ho detto, dai, sai cosa c'è? Visto che non avevo niente da fare, la sera mi metto a stare a imparare questa chitarra, ma non sono in grado di suonare la chitarra, quindi... Ok. Facci vedere, facci vedere, dai, non fa... Dai, ce l'hai l'umine, non fa... Però, aspetta, che io vado a prendere gli ingredienti per il cocktail, se suona, eh. Me ne vado... Ok, allora aspetta... Perché non posso reggerlo da sobrio. Alessandro, visto che siete qua, uno deve prendere gli ingredienti per il cocktail, mentre Roman deve suonare la chitarra è il giusto momento di presentare il vostro... Vado. ...ospite, il vostro fratello minore, signori e signori, in collegamento, di casa sua, il campione del mondo, di Guangio, il nostro... ...de Porto... ...de... ...Sommar! Eccoci, mi sentite, eh? Eccoci qua, ciao Edo, ci sentiamo benissimo. Ciao a tutti. Ciao Edo. Grazie dell'invito. Ciao a tutti. Grazie a te di aver aggiustato, anche perché non potevi non accettare questo che ci saranno i suoi due fratelli, ma ogni tanto in caso si tratta di incontrarvi tutti insieme, se siete tutti... uno a Milano, uno... l'invito di terra. Sì, non è facile, guarda, poi durante la stagione, quest'anno è sempre qui a casa, ma eravamo sempre fuori in trasferta, quindi... non è neanche facile incrociare, diciamo, tutti questi... tutti questi fratelli. Tutti questi fratelli. Sì, perché poi adesso Roma ne andrò a fare la quarantena, quindi noi non ci vediamo, praticamente pochissimo. Ok. È un po' complicato. Eh sì, è un po' complicato, sì. Allora, io e Simone abbiamo un po' indagato, un po' visto anche la tua vita al di là della... Siamo che hai un sacco di follower sui tuoi social, vero Simo? Sì, in particolare abbiamo visto una intervista con il tuo compagno di squadra Luongo, che ci dice che ne hai un sacco a Taipei. Sì, sì, no, abbiamo fatto... no, no, è una scemata, abbiamo fatto una... quando abbiamo fatto l'Università di Taipei tre anni fa, quattro anni fa, eh, avevo preso un sacco di follower perché... perché ero finito su una rivista in cui tra l'altro c'era anche Nicolo Gitto, non so per quale motivo. Ok. Il re, il re dei social, cioè, esatto, un po' di meno che... Ah, è uscito a infilarsi e quindi niente, basta, poi ha... quindi... Ha preso il piede, eh... Edoma, edoma, che rivista era, era una rivista culturale o cosa di intimo, che cos'era? No, era una rivista... sì, era tipo la Playboy, capito? Era il Playboy di Taipei. Perché Gitto, 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 cioè, Gitto, forse era, non so, qualche rivista di... Focus non lo so se lo potesse essere. Ma tipo, cioè di Taipei, magari potrebbe essere... qualcosa del genere, esatto, non mi ricordo adesso. Va bene, dai. Senti, abbiamo chiesto un po' di cose con i fratelli, e... Roma, praticamente, subito, ha detto... Gitto, ho pensato io, mi ricordo anche quando non riuscivo a salire i gradoni della piscina. Tu hai ricordi in questi momenti? Sì, certo, sì, io mi sono avvicinato a Panootto proprio da quando... Quando ero veramente piccolo che andavo a vedere le loro partite, e ho proprio tanti ricordi. E' stato, mi è uscito qui in Lutea pochi giorni fa di una... dell'impresa storica del Bojasco nel 2010, eh, cos'era? 11! Nel 2011. L'anno in cui l'anno ha smesso che io ero proprio sugli spalti a vedere la partita a Brescia, andato a vederli, e non mi toccavo... L'avvo iniziato forse da un anno o due anni. Incredibile. Ero proprio piccolo, sì, sì, assolutamente. Ottimo. Sì, fondamentalmente sono quelle cose che ti trattano da bambini che si vengono poi a vedere la drink, a raggiungere gli ospiti. E' un po' che gli hanno un spirito insomma un po' di comprensione tra di voi probabilmente o no? No, non c'è mai stata competizione anche perché comunque non ho mai avuto la fortuna di giocare tra insieme. Io poi ho esordito in Serie A due o tre anni dopo che Romano ha smesso, due anni, e quindi ho soltanto giocato con Ale ma non c'è mai stata competizione, mai, proprio, anzi, ci sostenevamo sempre, assolutamente. Bugiarmo! Dai, anche perché l'avremmo persa, dai, comunque Romano la verità è che al top della sua carriera ha deciso di mollare tipo eroe, io faccio dell'altro, ragazzi è così che si fa, è così che si fa, Michael Jordan, alla Michael Jordan. Non ci sarà competizione ma Alessandro si è presentato dicendo insomma quello forte. Esatto, l'unico forte, l'unico non quello. Esatto. è vero, è verissimo, l'estra è fantasia. Ragazzi, un piccolo giudino per voi, un po' per vedere quali sono le vostre personalità, siete tre fratelli, siete tre campioni, diventate tifane sport tutti i giorni, voi siete nella vita realmente, ho fatto tre immagini che voi dovete scegliere, belle immagini che secondo voi vi rappresento uno dei vostri fratelli. Sì, oggi hai? Sì, allora iniziamo con delle le classiche delle uscite serali e ci dovete dire chi rappresenta di più l'immagine dietro. Ah, ecco, fantastico. Chi dei tuoi fratelli di voi tre è più un festaiolo. Vedo male. Ma no, qui mi sembra più ale a me, guarda. Eh, guarda, ti voglio bene perché hai un ricordo di me che ormai non c'è più, però secondo me lo ero, almeno lo ero. Ora sicuramente è più festaiolo, però Edo, dai, io quello che ho dato, ho dato. Edo, confermi. Guarda, sì, perché poi Alessandro è uscito dal giro troppo presto. Roman, vivendo l'uno da tanti anni e non... Ma Roman non c'è mai entrato, Roman non c'è mai entrato, sempre quello dei cinema, Roman, vedete. Ragazzi, l'ho insegnato io a fare certe cose. Allora, Simo, vai qua la seconda immagine. Questa qui è un po' più... Questa, tipica serata, anche questa, in discoteca. questo può essere... Questo può essere Roman nella sua vita oppure Edo la mattina dopo aver fatto serata, dipende. Sì, perché c'è la luce dietro. Mattina, l'ameriggio, sera. Sì, però, Edo con la canottira no, ragazzi, deve far vedere il fisico. Sì, esatto. Allora, vai con la terza immagine, vediamo se ce l'abbiamo. Ci vediamo questa, qualcuno più tranquilla, più sobria. Ho vinto io. Alessandra. Ebbè, questa cosa era facile. Sì, a mani bassi. A questo punto passerei con la fase 2 del vostro gioco. Qual è la vostra tipologia di ragazza ideale? Cioè, come immagine, insomma, come stile. Ora, vediamo un po' la prima, Simo. Mi avrei rito che mi sento più. Con le ragazze. una ragazza molto elegante, diciamo. Non vi sento io. Come mai? C'è un problema con Simone. Si è rimasto con le altre. Ti pone a te ragazze. Non scomparso? Eccolo. Eccolo, eccolo, eccolo. Io lo vedo. Vedete? Io ti sento. Sì, ti vedo. Eccoci qua. Qua, adesso, vabbè, come tipologia di ragazza vediamo questa, vabbè, più elegante, con... una vestita con la giacca, chi? Eh, direi Roman, io. Io non dico niente. È quasi londinese, come diciamo. Eh, è una sofisticata, sì, potrebbe dire il mio nome solo. Assolutamente Roman. Ok, va bene. Ma è Simo con la seconda? Seconda, vediamo un pochino più aggressiva come stile. Questa va a tutti, penso. a tutto il mondo, penso. Sì, sì, questa, 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 questa ce la, no, Edo, però quel tacco, quella grinta. Io mi sacrifico, mi sacrifico. Sei tu. È un brutto sacrificio, eh, questo. Mi sacrifico io. E andiamo con l'ultima, invece più sportiva. Ma io, posso permettermi, avrei visto Ale, quella di prima e questa Edo. Ah, ok. Bene. Va bene, vai. Io non parlo, perché sennò mi suonano. Io ho occhi solo per una persona. Questa ce la l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto principalmente per te. Esatto, guarda, io non posso, non posso. Ragazzi, io voglio prendere un caffè, se non mi scocca. Allora, l'idea che avevamo avuto, vai, vai, Edo, vai pure a prendere un caffè. Dei vostri cittadini, insomma, ecco, infatti adesso Edoardo ha fatto un caffè, ricordo che Romano è in diretta da Londra e Alessandro, dove va il cocktail invece? Ma io, guarda, va benissimo, ora mi distrago inizio a prepararlo a questo punto. Almeno 10 minuti ancora. Romano, si è più poco un caffè? Sì, ma io. Sì, mi diventa. Ma Simone, Simone, ma non era vero che era il caffè? È stato adesso, Edoardo di Soppa, da Romano? No, ma sono a Londra. Non era lui. Non era lui. Era un sosia, era un sosia, perché gli manchiamo, gli manchiamo, gli manchiamo e quindi vive con persone simili a noi. Ma chi? Ma sto qua era il maggior domo, raga. Ok, ok. Ma si vede anche il Big Bang dietro Romano. Eh, infatti. l'oragio. L'oragio. Io non vi sto considerando, ma ci vuole sempre attenzione per parlare i cocktail, Non vorrei dire... Allora, abbiamo pochissimo tempo, tra l'altro ci viene detto che abbiamo fatto su chi è il più bello. Eh sì, non è il maggior domo, lui è veramente il maggior domo. Cosa? Edoardo, ricordatevi. Per favore, Romano, richiama il tuo maggior domo. a questo punto... Charlie! Non arriva, dai. Non arriva, arriva a comando, arriva a troppo. Allora, mi dicono che Alessandro ti somma è il sondaggio che sono fatto il più bello di tutti. Eccomi, scusate, ho davvero mio caffè. Ok, allora, ragazzi, siamo in chiusura, ci siamo divertiti, spero che vi siete divertiti anche voi a riunione familiare e talmente divertito da brindare, adesso. Esatto, Talmente in festa da brindare. Alla salute. Anche a te, Edoardo. Edoardo. Ho creato un grandissimo gin tonic che sembra semplice ma non lo è, C'è vero. La decisione, metodo e soprattutto esperienza. Grande, grande Alessandro. È solo buon intero secondo me. Allora, alla vostra, alla vostra. Salute. Alla tua. Allora, ci stanno sentendo un momento e Edoardo, so che ci siamo accordati prima per fare uno scherzo se volevi, un tuo amico, un po' compagno di spada, una persona che ho diviso con te lo spogliatoio in cui si può si può fare un po' se non te la senti di farlo. Guarda, io ci ho pensato terminando la nostra diretta. Guarda, io ci ho pensato un po' e alla fine ho scelto tra tutti i miei compagni di squadra penso praticamente lo Schwarzenegger della palanuoto italiana. Stefano Luongo, lo chiamo se non è un problema. Posso? Chiamo subito allora. Vale, vale. Sarà impegnatissimo immagino. Infatti speriamo. Sta arando i campi, sta arando qualche campo. Beh, in questo periodo bisogna tenersi impegnati. Suona, per fortuna, di solito viene staccato. Dai, già un primo passo l'abbiamo fatto. Eh, esatto, non risponde. Ma si fa desiderare. Niente. Niente, mi butta giù. Non ci credo. Ah, ma no. Giusto. Non ci credo. Questa è quello che si crea tra compagni di squadra. Esatto. Va chiamato. Va chiamato, va chiamato. Pronto? Oh, ste, ciao, come stai? Ciao, Frank. Ti disturbo? Ma, ma ti stai allenando? Io sono, sì. Ah, infatti, perché ragazzi dovete, io ho sette sezioni di allenamento al giorno. Senti, ste, mi hanno detto di, mi hanno detto di sfidarti. Io, immaginando la tua forma fisica eccellente e strarifante in cui ti avrai adesso. ti vorrei sfidare in una, praticamente, ho pensato un po' quale sia il tuo cavallo di battaglia. Guarda, ti vorrei proporre di fare gli 800 addominali in settimana quando vuoi e mandare un video in una, no, insomma, quanto ci metterai? Cinque minuti? Dieci, tu? e poi ci mandi il video e poi, vedete? Devi fare un video e ci fai vedere, non so quanti ne puoi fare, ma so che anche tu superi mille di solito. faccio, ma poi faccio sfigurare 100, vedete? Voi mi tocca la puntata più. Hai ragione. Allora, siccome stiamo chiudendo, Edo, saluta, 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 se siete d'accordo ci ricollegheremo assolutamente sì. Nei prossimi weekend se vi appartiamo a vedere Simo, voglio fare una chiusura perché siamo veramente due minuti per chiudere il collegamento. Beh, ragazzi, volevo ringraziarvi tantissimo per aver passato questa mezz'oretta con noi che è stata davvero molto simpatica e farmi in bocca al lupo appena, vabbè, finirà questo periodo a tutti soprattutto a te, Edo, perché l'anno prossimo ci saranno impegni nazionali diciamo molto importanti e quindi saremo tutti con te. Speriamo. Grazie, grazie davvero a tutti per aver partecipato con noi. Grazie a voi. Grazie a voi. Saluta a tutti i ragazzi che ci sono grazie a voi. Le under 11 delle leve Metanopoli e di sport e soprattutto della pallamuoto. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao a tutti ancora. Ciao, a presto. Ciao. Grazie. Grazie.